Dopo i trascorsi positivi con l'amatori Serafini Sulmona, il giovane mezzofondista Giulio Perpetuo ha deciso di cambiare squadra. Da poco è divenuto un atleta del GS Val Sugana Trentino. Con la maglia della nuova società Perpetuo lo scorso 2 febbraio si è giudicato il titolo regionale Juniores ai campionati del Trentino di Corsa Campestre. Ha condotto la gara in testa sin dall'inizio, riuscendo a vincere con un distacco di 23 secondi. Continua la carriera prestigiosa del giovane Sulmonese, 18 anni da compie del prossimo 31 marzo, iniziata con l'amatori Serafini sotto l'attenta guida della sua allenatrice Annelise Knol, che lo ha formato tecnicamente. Con la società Sulmonese Perpetuo, oltre a conquistare diversi titoli regionali, ha avuto il merito di partecipare nel luglio scorso ai campionati del mondo in Ucraina, dove ha gareggiato nei 2000 siepi. Nonostante la sua giovane età, vanta i migliori primati personali sui 3000 metri con 8 minuti 35 secondi e 19 e sui 2000 siepi con 5 minuti 53 secondi e 65. Ora la decisione di lasciare la squadra dove è cresciuto per trovare fortune altrove. Attualmente si allena spesso a Roma, seguito dal tecnico Giuliano Baccani. Al termine della prestazione vincente in Trentino, Giulio Perpetuo ha ricevuto gli elogi dal tecnico della Nazionale Pierino Indrizzi. Il mezzo fondista Sulmonese sarà ora tra i protagonisti dei campionati italiani di cross, in programma il 7 e l'8 marzo a 9 in provincia di Vicenza.